Ciao a tutti e a tutte, oggi parliamo della mia TBR di aprile, quindi i libri che ho in mente di leggere ad aprile considerando anche che io ho fatto una TBR primaverile, quindi in questi mesi dovrei inserirci anche i libri della TBR primaverile ma... dettagli Prima di addentrarci in questo video, come sempre, vediamo come è andata la mia TBR di marzo Allora, a marzo avevo inserito tra i fumetti Y, l'ultimo uomo, volume 2 e volume 3, Spiriti e creature del Giappone Allora, il volume 2 di Y l'avevo letto a febbraio, cioè tipo ero riuscita a leggerlo l'ultimo giorno di febbraio quando io avevo già preparato la TBR di marzo, sono riuscita a leggere il volume 3 a marzo e anche Spiriti e creature del Giappone Poi, per quanto riguarda i libri che dovevo leggere per i miei tre gruppi di lettura Allora avevo Un'estate con la strega dell'Ovest, che abbiamo letto con la Gibi Squad, trovate anche la diretta qui sul canale quindi letto Il Vecchio il Mare di Dast... sì, di Dastajewski Il Vecchio il Mare di Ernest Hemingway, che ho letto e L'Idiota di Dastajewski, che ho letto, quindi molto bene fino a questo momento e poi mi ero inserita dei libri extra 2, ovvero Una vita come tante e Assassin's Fate e alla fine ho optato per la lettura di Assassin's Fate tra i due e infatti non sono riuscita a leggere Una vita come tante, nemmeno questo mese Ormai spero semplicemente di riuscire a leggere entro il 2022 Voi direte, ma Erika, tanto sappiamo che lo avrei inserito nel video, cioè nella TBR di aprile E invece no, signori, e invece no, perché nella TBR di aprile dovevo, per forza di cose, inserire altro Tra l'altro mi è appena venuto in mente che io di solito, cioè, negli ultimi mesi inserivo un libro della saga di Dune un mese e il mese successivo un libro di Robin Hobb, un libro della saga di Dune il mese dopo e quello dopo ancora un libro di Robin Hobb Cosa che ho fatto fino a questo momento, il problema, mi è appena venuto in mente è che ad aprile io non ho inserito un libro della saga di Dune Ma proviamo, proviamo ad andare con ordine Allora Ad aprile ho inserito quattro libri di Stephen King Allora, perché quattro libri di Stephen King ad aprile? Il mio proposito era quello di leggere un libro di Stephen King al mese Il problema è che gennaio e febbraio, con il trasloco, mi sono completamente dimenticata che al mondo esiste Stephen King E quindi non ho letto assolutamente nulla A febbraio mi ero detta, mi raccomando Erika, inserisci tre libri di King a marzo Ho fatto la mia TBR di marzo dimenticandomi ancora una volta dell'esistenza di Stephen King E quindi eccomi qua ad aprile con quattro libri di Stephen King da leggere E voi sapete che King non scrive libri brevi I libri che devo leggere di King sono Blaze Che all'epoca era in realtà stato scritto con il pseudonimo di Richard Bachman Questo devo dire è anche breve Sono meno di 400 pagine e il font è anche piuttosto grande Potrebbe anche essere un problema perché di solito King, quei libri brevi, non mi entusiasma particolarmente Staremo a vedere Ah guardate, non mi chiedete di cosa parlano questi libri perché assolutamente non mi ricordo Non me lo ricordo proprio Andiamo avanti con Duma Key che è il libro dopo che dovrei leggere E qua siamo nella quantità di pagine tipica di Stephen King Più di 700 Ok Ma guardate la mole, la mole non è importante Io spero tanto che mi piacciano Spero tanto che mi piacciano E se poi te ne penti Andiamo avanti con Al crepuscolo Questo se non vado errata, sì È una raccolta di racconti Questa è una raccolta di racconti Non so se sia una racconti lunghi, se sia una racconti brevi Non so quanti ce ne sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Ma 13 racconti per 500 pagine Sono anche una lunghezza media insomma Perché anche in questo caso mi piacciono i racconti lunghi di King È raro che i suoi racconti brevi mi piacciono Molto raro Quindi vedremo E poi un libro di Stephen King che ancora non ho acquistato Che si intitola Stephen King Goes to the Movie Ha questo titolo inglese anche in italiano Non è un romanzo Non è un romanzo E il fatto che io lo debba ancora acquistare Male, molto male Anche in questo caso comunque abbiamo una sorta di raccolta Di racconti tra virgolette Perché come vi dicevo comunque non è un romanzo Diciamo che King in questo caso dice la sua sui film Che sono usciti sui suoi libri Se ho capito bene Perché potrei anche aver capito male Se ho capito bene È questo E se ho capito bene Non c'è nemmeno una nuova edizione di questo libro Come questi libri qua Quindi avrò una vecchia edizione Se la trovo Se è reperibile Passiamo poi alle letture che devo fare per i miei gruppi di lettura Nel mese di aprile non ho la lettura della GB Squad Perché lì leggiamo un libro in due mesi Ma ho ancora una volta Due libri dei miei altri due gruppi di lettura Quindi per il gruppo di lettura GB Che è il gruppo di lettura in cui leggiamo i libri vincitori del premio Pulitzer Devo leggere un libro che devo ancora acquistare Ovvero Una morte in famiglia di James A.G Cioè teoricamente questo libro è disponibile Perché ho controllato? Oh... Credo di sì che sia disponibile questo libro Quindi teoricamente devo leggere questo Che però ancora non ho Quindi non so nemmeno quanto è lungo Niente Non so niente Poi invece per il circolo di classici In cui stiamo leggendo tutte le opere di Dostoevsky In ordine cronologico Dobbiamo leggere L'Eterno Marito L'Eterno Marito che In questa edizione contiene anche La moglie di un altro e il marito sotto il letto Che è un altro insomma novella Racconto E... Sì diciamo che insomma Non sono neanche tantissime pagine Ne sono meno di 300 Quindi... Ok E veniamo poi ai fumetti Anche per questo mese Ho scelto tre fumetti Allora... Ne viene da ridere comunque Un po' esagerata Mi sa questa TBR Sì Comunque ho scelto rovine Di Peter Cooper Perché... Semplicemente questo tra l'altro Era anche nella mia TBR primaverile Quindi ho detto Ma mettiamoci dentro Che magari così Sfoltisco già la mia TBR primaverile Almeno inizio Oh... Ma vi sa adesso Che quadrento Ci sono tutti insettini Ma che meraviglia Queste farfalline C'è la Libellio La Cuccinella Ci sono... Stavo dicendo... Anche nell'ultima pagina Io sono diverse Schifo Schifo Ok Stavo dicendo TBR primaverile Rovine Ok Andiamo avanti Poi Poi ho inserito Watchmen Di Alan Moore Non so Se mi seguite da un po' Sapete Da quanto tempo Ho in wishlist Questo Questo libro Quindi Questo fumetto Quindi sì Ed è in inglese Questo è in inglese Però vabbè Insomma Anche se Ci metto di più a leggere in inglese Insomma Un fumetto Dovrei Andare veloce Quindi Bene così E poi Ho inserito Il piccolo caronte Di Sergio Algozzino Deborah Allo Edito sempre Tu Nue Perché Questo Assieme a Rovine Fanno parte Dei miei ultimi acquisti Di quest'anno Sto cercando di acquistare Pochissimo Di fuori dei gruppi Di lettura E secondo me Ci sto riuscendo Anche bene E quindi Volevo appunto Non volevo comunque Accumulare I libri acquistati Quest'anno E quindi Ho deciso di inserire Questo Qui non ci sono Scarafaggi Molto bene Molto bene E quindi Perché Ho giocato tutto E quindi Stavo dicendo Che appunto Avevo Ho deciso di inserire Il piccolo caronte Per questo motivo Per non accumulare Libri acquistati Nel 2022 Cioè Probabilmente Se stanno accumulando Lo stesso Però Non così tanto Come La mia normalità Solita Non lo so Ho l'impressione Che questo video Sia stato un po' Delirante Ho l'impressione Di aver esagerato Con la mia TBR Ho l'impressione Che farò schifo Nel mese di aprile Tutto ok E mi sono trattenuta E mi sono trattenuta Da non inserire Una vita come tante Vi dico solo questo Mi sono trattenuta Ciao Bene Andiamo avanti Vi lascio questi libri Linkati qui sotto Ad Amazon IBS Feltrinali Con cui sono affidati Se volete Leggervi la trama Oppure procedere All'acquisto E fatemi sapere Se avete letto qualcosa Cosa ne pensate Se sono libri Che vi sono piaciuti Oppure no E se avete Anche voi Stilato una sorta Di TBR Di aprile Insomma se volete Fatemi sapere qua sotto Che libri Vorreste leggere Appunto ad aprile Penso di avervi detto tutto Vi ricordo che qua sotto Trovate il mio account Coffee Se volete offrirmi Un caffè virtuale Qualora vi piacessero I miei contenuti E vogliate sostenermi E trovate anche Tutti i miei social Se volete seguirmi Al di fuori di Youtube Trovate il blog La pagina Facebook Il gruppo Facebook Twitter Instagram Udrizza Il canale Telegram Per essere aggiornati in anticipo Sulle nuove uscite Del blog e del canale E mi trovate anche Su TikTok Detto questo Direi che noi ci possiamo Vedere in un prossimo video Ciao